Big match di giornata, domenica alle 18 alla tenso struttura tra Adrano e Ragusa, il quintetto Ibleo capolista di scena ad Adrano contro la seconda forza del torneo. Una gara valida per la non aggiornata del campionato di serie C-Silver di basket che promette scintile e spettacolo, con Adrano pronto a fare la voce grossa nell'inespugnabile furtino di casa. Ragusa è forte, sette vittorie in otto incontri con la miglior difesa del campionato. Adrano risponde pure con la forza dei numeri, terzo miglior attacco e in roster il miglior marcatore del torneo, quell'ennis Wotley che viaggia con una media di 35 punti a gara. Adrano è reduce dal colpaccio di Capodorlando e vuole scrivere la quinta sinfonia consecutiva in questa fase di campionato che vede Iadraniti in forma smaiante, così coace Bonano sul match da mille e una notte di domenica. Ragusa è una squadra nata molto bene, da Massimo Di Gregorio, è un allenatore molto competente, la tradizione ragusa porta sempre a squadre che sanno giocare, sanno leggere, difendono, attaccano, corrono, però noi siamo pronti, ormai siamo consapevoli di quello che possiamo fare, sappiamo che a casa nostra è dura per tutti e affronteremo la partita come sappiamo. La tenso struttura e il tifo incessante dell'armata bianconera potranno spostare come sempre gli equilibri a favore degli Iadraniti. Il giocare da noi ci dà una carica enorme in più e sicuramente gli avversari vengono sempre un po' intimoriti da quello che l'armata bianconera, il sesto uomo e tutto il pubblico di Iadrano riesce a dare, che è qualcosa di veramente unico. Come ho detto più volte, uno spettacolo non è uno spettacolo, infatti invito gli appassionati a passare una domenica di gioia, di sport, di festa e divertimento insieme a noi. Palla due alle 18 ad arbitrare il match Carlo Di Giorgi di Palermo e Antonino Di Bella di San Filippo del Mela.